Ci vediamo al porto. Sto parlando con te, nella porto, fermati. Ti ho abbastanza delle tue tanzate, ferma subito l'auto. Prima ci ho tempo di fermarti, ora ti conviene correre. Sono all'inseguimento di una Ford Mustang, vediamo cosa sa fare. Modalità inseguimento attivata, potete unirvi alla festa. Modalità inseguimento attivata, potete unirvi alla fredda, potete unirvi alla fredda, potete unirvi alla fredda, potete unirvi alla fredda. Ho l'auto del soggetto in vista, non è niente male. Stai complicando la vita infecilmente. Voglio problemi. Perché ci vuole così tante? Ti aggiornerò quando ci sarà qualcosa da segnalare. Stai complicando la vita inugidante. Hai commesso un grosso errore. Ho bisogno di rinforzi alla mia posizione. Rinforzi in arrivo, andateci dentro. Rinforzi in arrivo. Rinforzi in arrivo. Una scelta. Rinforziamo. Rinforzi in arrivo. Inseguo un sospetto. Inizio da se le cercate. Voglio un'infinitario sull'auto che stai inseguendo. Fate rafforzamento. È alla guida di una Ford Mustang. Ho notizia di un inseguimento nella vostra zona. Potete unirmi al divertimento. That's how it's like. Travel di scopo. Travel di scopo. Chiamate il carro a Trenzi. La mia auto è distrutta. Io sono ok, ma gli altri arrancano nelle retrovie. Potete fare qualcosa a riguardo centrale. Battugli da inseguimento avastate in arrivo. Il veicolo sospetto è sparito dopo aver provocato parecchi danni tra l'altro. Andate. Ti prenderò, idiota. Ho visto l'idiota. Vi torno in azione. A costa. Subito. Dentrale, la mia auto è spasciata. Non c'è più nessuno per seguirlo. Non pensacceli neanche. Ho appena individuato il nostro sospetto. Speriamo che si guardano un cuore che scappa in Spagna e chiamano mi testa. Ok. Sì, 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 sì. Quanto tipo decida quando vuole finire la giornata? Le squadre notturne stanno posizionando questi barrabbiti per il soggetto. E vale a spero un altro. Ah, il pan è riuscito. Sento che è bello essere cattivo. Serve il supporto del delicottero. Sei incidata a contentarmi? L'elicottero sta arrivando. Previdente. Fuori dei piedi e lasciate di male il mio lavoro. Contriamo, non nemmeno mai con questo cattorchio. La sua auto sarà uno stame fumante quando avrò finito. Preparate l'elicottero, ci serve in buono subito. L'elicottero è partito e dovrebbe essere lì presto. Sette dieci, pronti a bloccargli la strada. Pronti a un contatto frontale. Unità tattica pronta a fare danni. Sto per caricare. Centrale, abbiamo bisogno di supporto dall'altro Confermo, l'elicottero è stato inviato 7-10, siamo pronti a far more il soggetto La vecchiavo non avete fatto a venderlo tutti Vuole giocare a nascondito, andate a stararlo Nessuno ci regalerà nulla, dobbiamo prenderci quel che ci spetta Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti